Shalom, shalom, shalom. Miei saluti a coloro della Casa di Israele che con sincerità cercano la verità e cercano il padre, il suo nome vero e il nome di suo figlio. Prima di iniziare questa lezione voglio ringraziare e lodare il padre onnipotente Yahweh nel nome di suo figlio, il nostro re e redentore, il nostro salvatore, Yahweh Shai. E come sempre pace alla Casa di Israele, a un terzo della Casa che fa il lavoro di spargere questa verità a tutti i quattro punti della terra e ai 144.000 letti e doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità. Sto ancora pensando al titolo che devo dare a questa lezione, ma la lezione sarà basata sull'onestà. Dobbiamo essere prima onesti con noi stessi in questa verità. Se non siamo onesti con noi stessi non possiamo fare nulla, non possiamo rendere, non possiamo essere accettabili davanti al padre. Il motivo perché dico questo è che so bene dall'esperienza che tantissimi della Casa di Israele e hanno saputo questa verità e lo sanno di arrivare alla verità e hanno la volontà di farla, ma lo trovano difficile perché sono legati a delle cose mondane, sono ancora legati a dei comportamenti precedenti che non riescono a molare, sono legati a tante cose che non li fanno andare avanti spiritualmente. E il padre non cerca questa gente, il padre cerca coloro che lasceranno, che moleranno tutto per seguire la sua parola. Il padre cerca uomini forti, non uomini effemminiti. Inizio questa lezione leggendo dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 8 e versetto 32 che dice Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Cari fratelli della Casa di Israele, le poche sorelle, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Vi dico, nessuna religione sulla faccia della terra può rendervi liberi. Nessuna filosofia sulla faccia della terra può rendervi liberi. Se no la verità questa, questa verità di chi sono i veri israeliti, il vero nome del padre e suo figlio. E questa verità in generale che è venuto fuori, che viene fuori dalla Great Millstone. Perciò quando veniamo in contatto con la verità dovrebbe in realtà liberarci dalle catene di questo mondo. Dobbiamo fare il nostro, il nostro passo per essere liberi. Ma purtroppo tanti sono legati a tante cose a delle catene di menzogna a delle catene mondane a delle catene che li impedirà da questo grande finale che sta per avvenire. leggendo le scritture sappiamo benissimo che coloro che avranno la pazienza fino alla fine saranno come delle stelle. Ok? Saranno come delle stelle. E questo lo possiamo leggere nel libro di... scusatemi un attimo che trovo il versetto. Oh... So che è nel libro di Daniele. Sì, nel libro di Daniele. Beh, è in tanti libri. Si trova anche nel libro di Primo Timoteo ma leggo velocemente qui dal libro di Daniele nell'ultimo capitolo e dal versetto 12 che dice Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni anzi anzi no ah, non è questo è il versetto 2 ecco qui molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno li uni per la vita eterna li uni per la vergogna e per un'eterna infamia i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. ok questo è solamente uno di quei versetti là ma il punto che volevo portarvi fuori che i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Secondo voi perché faccio questi video ogni giorno? Perché noi di secondo voi perché noi della Great Millstone cerchiamo di insegnare questa verità che conosciamo giornaliero facendo fuori una lezione affinché la gente possa imparare perché noi cerchiamo di di accumulare la nostra ricchezza nel regno ad avvenire ok saremo noi i saggi e ricordatevi della parabola nel libro di Matteo penso capitolo 3 la parabola delle dieci vergine cinque erano saggi e altri cinque erano sciocchi ok perciò i saggi si allega sempre a questo si sapendo quello che ci aspetta ci aspetta la vita eterna ci aspetta una corona enorme dal nostro salvatore Yahweh e noi regneremo su dei regni ok regneremo su dei regni avremo coloro che sono i nostri oppressori ora li avremo come schiavi come si legge nel libro di Malachia anzi Yahweh Hashem Yahweh Hashem volendo è probabile che la prossima lezione sarà la fine che faranno i malvagi ok andiamo avanti leggo dal libro di Proverbi capitolo 11 e versetto 3 che dice l'integrità degli uomini reti li guida ma la perversità dei perfidi è la loro rovina andiamo a vedere un'altra versione magari sarebbe più eccoci qui l'integrità dei uomini reti li guida ma la perversità dei perfidi è la loro rovina eh sì noi dobbiamo essere degli uomini integri dobbiamo forzarci ad osservare questi comandamenti ok fare ogni comandamento proprio come ci è stato comandato quelli che riusciamo eh dico quelli che riusciamo è che osservare tutti i shabbat diventa un po' difficile in questo regno qui che tanti dovranno lavorare nel giorno di shabbat e comunque abbiamo abbiamo la grazia su questo ma se uno riesce a non lavorare quel giorno ancora meglio ok ma avremo la grazia ecco perché è venuto il figlio del padre ed è stato il sacrificio per renderci liberi da tutto questo non dobbiamo mangiare maiale non dobbiamo mangiare degli animali impuri per capirne di più leggete il libro di levetico ok mi sa dai 23 più o meno ce ne sono 613 comandamenti nelle scritture non solo 10 e questi comandamenti sono per il nostro benessere se veramente amiamo i padre e puntiamo a questo regno sarà tutto facile non sarà nulla difficile e vi porto questa testimonianza dall'esperienza infatti il gioco del padre non è pesante è leggero è il gioco del mondo che è pesante ok coloro che vanno dietro il mondo questo regno fanno la cosa più difficile ma avvicinandosi al padre troveremo pace e troveremo troveremo come si dice il sollievo ok e vedete versetto 4 dice le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira ma la giustizia salva da morte cosa dice dice la giustizia è questa verità che abbiamo che fa risplendere il viso che ci fa risplendere come il sole è questa verità la nostra luce il nostro lumino è questa verità che abbiamo ed è l'unica cosa che ci potrebbe salvare dalla morte tanti sono allegati a cose mondane e fanno proprio fatica a a a a togliersene tanti lottano con la sigaretta tanti lottano con altre droghe tanti lottano cioè con diverse cose ma io vi dico non c'è nessuna prova che avete che non riuscite non riuscite a a vincere se volete davvero questo nuovo regno ad avvenire riuscirete a vincere soprattutto questo detto da uno che era legato alla droga che era legato a tutte le cose più brutte di questo mondo questo ero io ma oggi posso dirvi che se vogliamo davvero seguire questa strada che porta alla vita eterna il padre ci libererà da tutto con un po' di sforzo con un po' di digiuno preghiere e buona buona volontà riusciamo a vincere contro tutto ok e sì facendo questa lezione mi viene in mente altre lezioni da fare comunque andiamo avanti leggo il libro di primo Petro primo Petro capitolo 1 e leggo versetto da versetto 13 ok che dice perciò avendo cinti i fianchi della vostra mente e stando sobri abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Jehovah Shai il Messia e come figlioli d'ubbidienza non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza ma come colui che vi ha chiamati è santo anche voi siate santi in tutta la vostra condotta poiché sta scritta siate stanti perché io sono santo perciò fratelli qui questa è la proposta che ci fa il padre dobbiamo essere santi proprio come è ok la luce e la tenebre non si mischiano e non camminano assieme dobbiamo venire fuori dal mondo dobbiamo volere bene questa verità e dare vita alla nostra orsa secca come ho fatto i video nel passato che si intitola senza la verità siamo degli zombie ed è vero la verità ci dà vita e dobbiamo meditare su questa verità giorno e notte come ci è stato chiesto ok non dobbiamo tornare come vedete qui dove è scritto dobbiamo essere filuoli d'ubbidenza e non dobbiamo conformare alle cuspicenze del tempo passato quando eravamo nell'ignoranza una volta abbiamo lasciato dietro il mondo non dobbiamo guardare dietro come la moglie di lot quando i padri doveva distruggere la città di Sodoma e Gomorra lei ha guardato dietro perché gli era dispiaciuto aveva delle cose ricchezze cose la e dispiaceva è diventata una pietra di sale una semilitudine di questo una volta veniamo nella verità non dobbiamo guardare dietro ma andare sempre avanti ok e per concludere questa lezione leggo velocemente dal libro di romani capitolo 12 e versetto 2 che dice e non vi conformate a questo secolo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per l'esperienza qualsia la volontà del padre Yahweh la buona accettevole e perfetta volontà ok non dobbiamo essere non dobbiamo dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente quale è il rinnovamento della nostra mente questa verità una volta veniamo a conoscere questa verità dobbiamo farlo lavorare nel nostro sistema deve rinnovarci ok coloro che ascoltano e non mettono in pratica questo è la fede senza lavoro come dice le scritture non ha senso una volta conosciamo la verità dobbiamo agire ok e farlo trasformarci perché davvero questa verità trasforma ok ora vi condivido una breve testimonianza mia per farvi capire che sì è molto possibile io ero uno allegato a tutte le menzogne di questo mondo ok credevo di credevo di diventare chissà cosa in questo mondo anche perché avevo sì ho un talento di produrre musica e tutto il resto e ho avuto anche una proposta da una casa discografica enorme che non preferisco non menzionare il nome ok sono stato proposto 200 mila sterline ok e per cinque anni dovevo prendere 10 mila sterline al mese ok e io ringrazio il padre perché era il momento che venevo in contatto con questa verità ok mi ha dato il coraggio di scegliere quello che ha da darmi il mondo o quello che ha da darmi il padre nel regno ad avvenire e il padre mi ha dato il coraggio visto la mia volontà proprio di cercarlo e sono riuscito a rifiutare questa offerta e vi dico che al giorno d'oggi non metto più nemmeno le mani sul programma di musica che ho cioè non mi viene proprio voglia ho venduto i miei strumenti dello studio alcuni li ho ancora e cioè non sono più tornato a fare la musica condividere questa verità è la mia nuova musica è il nuovo amore che ho trovato ero uno che facevo uso di droghe ma droghe pesante di tutto fumavo fumavo erba dalla prima mattina proprio prima di fare qualsiasi cosa ed eccomi il padre mi ha liberato dalle morte perché tutto quello che questa vita ha da prima è la morte poi venendo a sapere a sapere di più come funziona il mondo della musica come funzionano questi 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 contratti ho visto che se aversi firmato questo contratto era la fine della mia anima ero venduto e questo compito speciale che il padre aveva preparato per me non non l'avrei raggiunto mai perciò carissimi fratelli è possibile se volete davvero entrare in vita che la vita è questa verità ok detto questo spero che siete stati edificati e io prego per la casa di Israele per coloro che con sincerità sentono vero questo messaggio e sentono di voler partecipare e coloro che vogliono questa verità con sincerità prego che il padre vi manda lo spirito del conforto che è lo spirito santo la rukaku dash nell'ebraico antico spero che vi dia la forza per continuare affinché l'avversario che è in servizio del padre non venga a portarvi via quel poco che avete accumulato e vi dico sta per arrivare il momento più difficile nella storia dell'umualtà ok il momento della tribolazione di Giacobbe ok avete bisogno della verità e rafforzarvi lo spirito se no accetterete quello che hanno i malvagi che hanno preparato per voi il microchip e tutto quello che viene con questo servizio detto questo ringrazio e do tutti i lodi al padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai e miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità e dico Shalom alla prossima